Un rettore, quattro prorettori e otto delegati. La squadra guidata dal magnifico rettore dell'Università del Salento Vincenzo Zara è pronta. Nessuno sguardo rivolto al passato, ma solo un futuro da guardare e da cambiare. Questo è il compito della squadra, ribadito nel giorno della presentazione ufficiale, con lo scopo di mettersi alle spalle le polemiche delle ultime ore su conferme e mancate conferme. E allora ecco i magnifici dodici, il prorettore Vicario e il professor Vittorio Boscia. I prorettori sono i professori Maria Enrica Frigione di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Antonio Lucio Giannone, ordinario di letteratura italiana contemporanea e Olga Lombardi, associata di diritto privato. Gli otto delegati invece sono i professori Giovanni Aloiso all'internalizzazione della ricerca, Mauro Biliotti al bilancio, come nell'era Limone La Forgia, Letizia Gaeta alla conoscenza, ricerca e messa in valore dei beni culturali, Giovanni Laudizi lo sfidante per il rettorato alla ristrutturazione organizzativa, Amedeo Maizza ai rapporti con il territorio, Giuseppe Patisso agli studenti, Maurizia Pierri alle questioni giuridico-istituzionali, Ilaria Romeo alla ricerca. Il rettore ha riservato per sé le deleghe alla didattica, al personale, alle edilizie universitarie, ai servizi informatici e alla valorizzazione della ricerca. E poi, novità dell'era Zara, i sei referenti che si concentreranno su temi specifici. E sono i professori Stefano De Rubertis alla comunicazione istituzionale, Marisa Forcina alle pari opportunità, Michele Maffia al servizio sanitario nazionale, Luigi Santoro alla disabilità e le riconferme dell'era La Forgia, Luca Mainetti all'agenda digitale e Antonio Ficarella alla sicurezza. Due ancora i referenti da individuare, quello al diritto allo studio e ai rapporti con i ricercatori. E su quest'ultimo, che Zara lancia l'appello, lo sceglieranno direttamente i ricercatori nelle modalità che credono. In ultimo, tre gruppi di lavoro aperti a chi vorrà dare il proprio contributo, sulla didattica, sulla progettualità scientifica e sull'internalizzazione. Una squadra che sarà arrodata per un anno e che potrebbe andare incontro a rimpasti sia nelle deleghe che nei nomi. Ci ritroveremo qui tra 12 mesi, ha detto il Magnifico, per fare il punto sull'operato. Come dire, un modo per fare manutenzione alla macchina che comunque a scadenza fissa si riunirà per capire dove si è arrivati, come si procederà e che decisioni andranno assunte. Da oggi tutti a lavoro dunque per ridare lucentezza al futuro, ma avvertito il professor Biliotti, responsabile del bilancio, avere i conti in ordine non sarà sufficiente se non si potrà procedere con lo sblocco del turnover.